Non sai che leggere nel prossimo anno? Te lo do io un consiglio, fidati! Allora, andiamo per argomenti. Il primo libro che vi consiglio è sulla ceramica in generale ed è Ceramica Viva, del compianto Nino Caruso, uno dei maggiori divulgatori sulla ceramica in Italia e forse nel mondo. Questo libro copre tutti gli aspetti della ceramica, dagli impasti alla tecnica di lavorazione, di decorazione, gli smalti, la cottura, offre un sacco di ricette su impasti e smalti e un sacco di spunti anche dalla ceramica dal mondo. L'ho letteralmente consumato a furia di leggerlo, ve lo consiglio, è la scelta numero uno sui libri della ceramica. Il secondo libro che vi voglio consigliare, sempre sulla ceramica in generale, è Ceramica in archeologia 2 di Ninina Cuomo Di Caprio, probabilmente parente a Leonardo, non lo so. Copre quasi gli stessi aspetti del libro di Caruso, ma con un tocco un po' più scientifico, va un po' più in dettaglio in alcune cose. Ed è molto interessante perché anno dopo anno, ogni volta che lo rileggo, capisco sempre qualcosina in più, scopro qualcosa in più. Ve lo consiglio, questo costa un po' di più, ma è un ottimo acquisto. Chiaramente di tutti i libri che vi consiglierò in questo video trovate il link nella descrizione qui sotto per poterli acquistare e iscrivetevi al canale in modo da far crescere insieme questo canale e permettermi di fare tanti altri video. Fantastico! Passiamo ora a due libri sul tornio che vi voglio consigliare. Il primo si chiama L'uso del tornio in ceramica di Mary Chapelleau ed è veramente fatto bene, un libro fantastico. Per ogni forma che fa al tornio fa vedere come mettere le mani, dove mettere le mani, dove spingere, come spingere. È ricco di immagini, veramente fantastico, consigliatissimo. L'altro a cui sono molto più affezionato è Pottery Handbook di Simon Leach. Lui è un mito e ha migliaia di video sul suo canale YouTube, andatelo a vedere perché è fantastico, ed è con lui che ho imparato a lavorare al tornio. Il libro forse va meno nello specifico dell'altro libro sul tornio, ma copre più aspetti. Ha anche alcuni consigli per costruire un forno Raku, per esempio. E la cosa bella è che c'è all'interno un cd con un sacco di video appunto sulla lavorazione al tornio. Passiamo al Raku, al nostro beneamato Raku. Due libri che bisogna assolutamente avere se si vuole iniziare con il Raku. Ceramica Raku, sempre di Nino Caruso, pieno di spunti e immagini, come costruire un forno, ricette sugli impasti refrattari per il Raku. Una miniera di informazioni incredibile. E l'altro in lingua inglese è Master in Raku di Stephen Brunfman, pieno di consigli utili, di chicchie sugli smalti, sugli impasti. È ricchissimo di immagini a colori sia delle sue opere che di altri artisti del Raku. Due libri che invece vi voglio consigliare sulla cultura giapponese di far ceramica, del far ceramica, sono il primo è Potter's Book di Bernard Leach, che è il nonno di Simon. E praticamente è un viaggio attraverso la ceramica giapponese, con istruzioni su come costruire alcuni strumenti che utilizzano in Giappone per fare ceramica, per lavorare al tornio, ma anche ricette di impasti, di smalti e aneddoti sulla ceramica giapponese in generale. E un altro libro veramente carino è The Japanese Pottery Handbook, che è un libro disegnato, scritto sia in inglese sia in giapponese e ci racconta un po' con la ceramica tradizionale giapponese, sia le forme, sia le tecniche di modellazione manuale al tornio e sia la cottura e ci dà tutti i nomi dei vari tipi di ceramica che fanno in Giappone. Gli ultimi due libri che vi voglio consigliare sono il primo di Angelica Poso e che è la guru delle piastrelle ed è un libro in inglese ma di facilissima lettura pieno di immagini su come creare piastrelle ma anche su come installarle su parete o su tavolo, sul legno. Un libro fantastico con un sacco di idee per fare delle bellissime piastrelle in ceramica. E l'ultimo libro è di vari autori e sulle tecniche alternative di cottura, sia tecniche alternative per fare raku, per cuocere in buca o in alcuni bidoni, per fare il saggar. Un bellissimo libro pieno di spunti e ricette anche questo, veramente consigliato. Vi ricordo che nella descrizione del video vi lascio tutti i link a questi libri che vi ho mostrato ma anche a molti altri. Come al solito se vi è piaciuto questo video mettete like, commentate, condividete e ci vediamo presto con un nuovo video su quella che è la mia più grande passione ovvero la ceramica. Buona lettura! di Stephen Brunfman, di Stephen Brunfman, di Stephen Brunfman, di Bernard, di... Gli ultimi due libri che vi ho col... Gli ultimi due libri che vi ho col... Gli ultimi due libri che...